Antonella Clerici e il compagno Vittorio, il lieto annuncio. Dopo diverse disavventure in amore, Antonella Clerici sembra aver ritrovato finalmente il sorriso grazie al suo nuovo compagno Vittorio Garrone. Classe 1966, Vitotrio è figlio di Riccardo Garrone e nipote di Edoardo Garrone, fondatore del Colosso del Petrolio Genovese ERG, il cui nome è un acronimo, che significa Edoardo Raffinerie Garrone. In queste ore, Antonella Clerici ha parlato di questo suo nuovo amore durante una lunga intervista. Questa volta sembra essere per sempre. Antonella Clerici parla del compagno Vittorio. Tra noi sarà per sempre. La vita sentimentale di Antonella Clerici è stata decisamente movimentata. Nel marzo del 1989, ha sposato a Legnano con Giuseppe Motta, ex giocatore di basket, dal quale si è separata nel 1991. Poi nel 2000 ha sposato a New York il produttore discografico Sergio Cossa, da cui ha divorziato cinque anni dopo. Successivamente è stata legata tre anni a Paolo Percivale, un ufficiale di Marina Mercantile. Dal 2007 al 2016 ha avuto una relazione con Eddie Martens, dal quale ha avuto una figlia, Mael, nata nel 2009. Attualmente è legata all'imprenditore Vittorio Garrone, il quale ha anche lui una vita amorosa impegnativa alle spalle. Vittorio Garrone, appassionato di viaggi, ha vissuto per un periodo in Sud America dove ha incontroato la sua ex moglie che gli ha donato tre figli, Luca, Agnese e Beatrice. Ora Antonella e Vittorio sembrano aver trovato tra di loro il vero amore. Un amore infinito, Antonella Clerici è pronta a promettere amore eterno al suo compagno Vittorio Garrone. La coppia, insieme dal 2016, si è sempre mostrata molto unita e complice nelle foto condivise sui social, ma anche dagli scatti rubati dai paparazzi. In un'intervista per Nuovo TV, la Clerici ha ammesso, tra me e Vittorio sarà per sempre. Poi la conduttrice ha annunciato che sta organizzando una cerimonia delle promesse con il compagno Vittorio Garrone. La coppia non compirà quindi, il, solito, passo verso il matrimonio, ma una cerimonia per rinnovare e festeggiare il loro amore insieme a parenti e amici. Per adesso, però, niente matrimonio perché come ha detto Antonella Clerici, quello non mi porta bene. Poi aggiunto. Questo amore me lo ha mandato mia mamma dal cielo, siamo uno lo specchio dell'altra. Se ci sposeremo lo saprete. Non ho segreti con il pubblico.